Massimo Lodolo, attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio. Come giovane spettatore di cinema, quando ha iniziato a rendersi conto che i film erano doppiati? Questa è una domanda bellissima per quanto mi riguarda, perché io ritengo che il doppiatore, non ci si debba accorgere che il film è doppiato, la fascinazione del doppiatore, del talento dell'attore che doppia, è proprio nel far dimenticare l'operazione in sedia del doppiaggio. Quindi, bellissima domanda, ribadisco, probabilmente ingenuamente verso i 15-16 anni ho cominciato a rendermi conto che le voci forse prima, però a livello proprio di consapevolezza artistica non mi sono posto domande sul perché o per come ci fosse la voce italiana sugli attori stranieri, lo trovavo naturale, anche perché quella generazione di doppiatori era musicale, era corrispondente al tempo e pertanto c'era un'aderenza perfetta, una resa... E quali erano i suoi attori preferiti e quali voci del passato le suscitavano più entusiasmo? Tutte? Tutte, ovviamente, per la fascinazione che un giovane ha, per il grande talento del professionista, dell'esperto. Io sono stato un fan fortissimo di Peppino Rinaldi, non sapendo che fosse Peppino Rinaldi, amavo tantissimo Paul Newman, amavo tantissimo Marlon Brando, impazzivo per Peter Sellers, casualmente ho scoperto poi che era doppiato dalla stessa voce, mirabilmente mutevole, efficace dal comico al drammatico, sempre aderente, quindi posso... io direi Peppino Rinaldi, che ho avuto poi la fortuna, come magari ci diremo in seguito, di avere come insegnante, è stato il riferimento e forse la motivazione principale, il desiderio di emulare a qualche titolo il tipo di carriera che ho avuto indotto dall'ascolto dei film doppiati appunto del cinema. Poi allora era cinema, non c'erano le soup, cioè c'era il... quando io ero giovane, il venerdì la RAI... c'erano due canali innanzitutto, la RAI il venerdì sera trasmetteva la prosa, con gli attori italiani eccellenti di teatro che c'erano, e tutto il resto, il cinematografico era... si soffruiva del cinematografico, dei film di circuito di allora, non c'erano... i telefilm erano italiani, non c'erano soup, non c'era nulla di tutto quello che poi ha invaso il mercato, ha ragionevolmente invaso il mercato con il mutare dei tempi. E per la storia del doppiaggio vorremmo con lei approfondire la sua carriera, iniziando proprio dal principio, come è entrato nel mondo del doppiaggio e che percorso ha realizzato insieme alle varie società? Allora, io ho avuto una enorme fortuna, dovuto ad una gatta nera, femmina, che per gli esoterici salvare la vita ad una gatta nera significa poi incorrere in episodi fortunosi, la faccio breve. Io un giorno in viaggio, in tournée, facevo i capricci di Marianna con Carlo Simoni e Paola Pitagora, perché io ho iniziato dal teatro, ero un attore di teatro, anche con un discreto talento, una discreta immediata fortuna. Dal primo spettacolo sono sempre stato scritturato successivamente per i primi quattro anni della carriera e continuativamente, però nel doppiaggio non si riusciva ad entrare. A parte che non c'era la liceità che viene, a mio parere, arbitrariamente concessa ora, che passano giovani con un curriculum di scuole presunte tali di doppiaggio, il doppiaggio non si può insegnare con delle scuole di doppiaggio, il doppiaggio è una specifica, è una derivazione del mestiere dell'attore, cioè non si può prescindere da un percorso attoriale per fare, a mio parere, il mestiere del doppiatore, perché si deve... Chiaro scusate se devi un po' dalla domanda, ma è fondamentale l'intuizione e l'approfondimento del personaggio. Se non si è fatto un percorso d'attore, non si è avuta una militanza d'attore, ci si limita l'aspetto vocale e si ottiene uno spicheraggio più che un'interpretazione. Ci vuole una cultura d'attore per rendere lo spessore di un personaggio che l'attore stesso, in presa diretta, ha studiato per mesi. Non si riusciva ad entrare allora, non c'era facoltà, non c'era modo di farsi apprezzare nel doppiaggio, che comunque di per sé ha una costituzione in casta, è una costituzione molto chiusa, privata. Non riuscivo, nonostante avessi questa vocalità, questa idoneità vocale, naturale, per grazia di Ceuta, una voce interessante anche da primo attore, che mi avrebbe potuto far facilmente accedere al mercato del doppiaggio, al settore, non c'era modo. Io durante questa tournée che feci per Carlo Di Capricci di Marianna, mi ripeto, con Simone e la Pitagora, salvai casualmente, ora devo stringere, per strada trovai una gattina nera in corso in una serie di episodi clamorosi, di casualità, di fortune, di sfortune, persi un orologio che mi avevano regalato per i miei 18 anni nel corso dello stesso viaggio, appena salvato questo gatto, però trovai un portafoglio con il doppio dei soldi del valore dell'orologio, l'ultimo giorno di tournée entrai in un bar che era semi chiuso per chiedere un'informazione, perché dovevo andare a Castelnuovo Garfagnana a fare un'ultima replica dello spettacolo e trovai, ripeto, all'interno, nella Maremma in Toscana, sul bancone del bar una repubblica, il giornale della Repubblica, chiesi al titolo del bar posso prenderla perché ho trovato l'edicolo chiuso, prego la prenda, era una repubblica con le pagine romane, all'interno, parliamo di fine luglio 1984, all'interno delle pagine romane c'era un trafiletto con scritto Renato Izzo, apre scuola per doppiatori con la sovvenzione della Regione Lazio, le iscrizioni si chiudono domani, io il giorno dopo, i requisiti richiesti erano il diploma di maturità liceale come minimo requisito, altrimenti non si sarebbe potuto accedere al provino, io sentì proprio l'illuminazione, sentì la strada aperta finalmente al grande sogno, perché io ho sempre, nonostante fossi un attore, avessi iniziato a fare attore e lo facessi, ma ancora non mi potevo ritenere tale rispetto alla mia umiltà e anche alla mia grandeur, per me gli attori sono persone gigantesche, avevo una passione smodata per il doppiaggio e per l'idea di poter doppiare un film, quindi questo sogno si realizza, ho sentito che era il colpo di fortuna la strada giusta, il giorno dopo andai a prendere il diploma al liceo, il liceo era chiuso, chiudevano le iscrizioni a luna, io a mezzogiorno e un quarto sono uscito disperato, mi sono davanti alla scuola chiusa, ho detto è finita, non posso accedere, mi sono girato ed è passato sulle strisce pedonali il bidello che si chiamava terzo, con la moglie a passeggio, io ho urlato terzo, ti prego aprimi la scuola, ho bisogno del diploma per questo motivo, lui bofonchiando ha aperto la scuola, i cadenacci, le cose, perché era agosto, mi ha dato il diploma, sono corso al gruppo 30, a Viale Bruno Buozzi e mi sono iscritto, al provino, dove c'erano Renato Izzo, Rossella Izzo, Gino Lamonica, Pino Colizzi e Peppino Rinaldi, Renato Izzo mi diede una pagina di giornale da leggere, iniziamola facendo una lettura sciolta di un quotidiano, alla terza riga mi fermò, non per pregio né per banteria, ma voglio far notare che a quella selezione eravamo 300 o 500 persone, ne avrebbero presi 30, alla quarta riga Renato Izzo, e questa è la grande maestria di Renato, la grande intuizione, il talent scout, mi disse signor Lodolo, lei è con noi, e questo a me ancora vengono i brividi perché, oddio, quando io credo, e vorrei dire ai giovani attori, che l'amore e il grande desiderio, l'amore che deriva dal grande desiderio, dal grande sogno che si realizza, fa divenire attori, rende possibile l'avverarsi dei miracoli, quello fu un vero e proprio miracolo in tutto il suo percorso, dalla gatta nera, che è stata viva per più di vent'anni, si chiamava Bianca, è stata chiamata Bianca, e poi, insomma, io da questo signor Lodolo, lei è con noi, e fra l'altro Renato Izzo dopo una settimana di scuola, perché fu una scuola meravigliosa, con insegnanti meravigliosi che hanno dato più del loro cuore, tutti loro stessi, vorrei citare, spero di non dimenticare nessuno, Renato, Rossella e Simona Izzo, Sergio Fiorentini, Gino Lamonica, Mario Bardella, Gabriella Genta, Manuela Andrei, Pino Colizzi, Tonino Accolla, Peppino Rinaldi, cioè il sogno di una vita, solamente persone a cui solo stringere la mano, o sentire la voce, quella voce del cinema, buongiorno signor Lodolo, a me ancora dai brividi, hanno dato, non il cuore, di più, facevamo tre ore di teoria, di teatro, di improvvisazione, posso citare un esempio di Renato che ci chiamava e disse Massimo, io sono la tua ragazza, dimmi ti amo, io ti amo, no, io ti lascerei dopo un secondo, non lo divestico, le liti, Renato che mi prendeva insulti e reagisci, non ti preoccupare, reagisci, voglio sentire l'istinto, voglio sentire la parola, in italiano Massimo, devi parlare in italiano, e quindi queste liti, queste forme di improvvisazione teatrale, a mio parere meravigliose, le gare, Gino Lamonica, persona che ha curato gli allievi, penso come avrebbe fatto con i propri figli, maestro oltre che di recitazione, di dizione, la dizione di Gino Lamonica, le prove ci faceva fare degli esercizi di velocità per favorire l'articolazione e la proprietà di linguaggio e di espressione, persone, tutti questi esercizi, esercizioli io ancora ce l'ho addosso, ogni volta che scatta il rosso, che è un fatto emozionale per me ancora notevole, quando scatta il rosso dell'incisione, queste persone la mattina a teoria, il pomeriggio andavamo in sala sei ore al giorno, dalle una e mezza alle sette e mezza, corrispondenti poi ai turni ufficiali del doppiaggio, della professione doppiaggio, quattro mesi, comunque dopo una settimana Renato mi ha fatto debuttare, da alcuni di noi li prese... Quindi grandi maestri dai quali imparare e poi applicare questi consigli giorno per giorno, durante la sua carriera di doppiatore e durante questa carriera, dicevamo appunto, lei ha avuto come insegnante Giuseppe Rinaldi, qual è stato il fattore che l'ha colpita di più incontrando quella voce che ascoltava il cinema non più su uno schermo ma dal vivo, quindi Rinaldi umano rispetto a Rinaldi doppiatore? Dunque, a parte appunto la fascinazione e l'emozione di sentire il cinema di fronte a me, devo dire l'aspetto a mio parere irripetibile di Peppino era che aveva l'anima e l'ironia del romano, era una persona di un'ironia, di un'allegria, di una sintesi, poteva ricordare nei tempi e nella logica Alberto Sordi, di cui credo fossero anche molto amici, era un animo gaio, al contempo era in tutto questo di una gentilezza nell'espressione, quello che è irripetibile di Peppino Rinaldi a mio parere, se ci fa caso nelle sue interpretazioni, se ci si fa caso, è che c'è un sottile sorriso e una sottile buona disposizione d'animo che dà fascinazione anche al personaggio perverso, al personaggio perfido, con una eleganza di dizione, con un'accademicità, una precisione, un'articolazione che quasi andava in contrasto poi con l'umanità della persona, che era molto alla mano, molto ironico, anche fuori le quinte disposto alla battuta il romanesco stesso, allo scherzo, siamo comunque dei privilegiati, siamo in corso in una grande fortuna e questo credo che Peppino non l'abbia dimenticato mai nel fare il suo mestiere, non ha mai fatto pesare la sua grandezza, sebbene come poi capita a molti, non era facile a digerire, e in questo Renato Izzo era uguale, la stupidità, le convenzioni, il cliente arbitrario, dispotico, era consapevole della sua essenza, della sua artisticità, della sua grandezza, non lo faceva pesare ma al contempo la difendeva e questo io l'ho visto fare come direttore, come uomo anche a Renato Izzo. L'umiltà dei grandi. L'umiltà dei grandi. Lei ha doppiato tanti ruoli memorabili, vorremmo con lei approfondire in dettaglio alcuni lavori, in primis Vincent Cassel, attore con il quale lei ha estaurato da tempo un bel sodalizio voce-volto, e vorremmo analizzare un film in particolare, Nemico pubblico numero uno, L'istinto di morte, nel ruolo di Jacques Marais. Dunque, i film erano due, L'istinto di morte e L'ora della fuga, perché era un film di quattro ore diviso in due film, con diversa uscita fra l'altro, sono usciti a sei mesi di distanza l'uno dall'altro, più o meno circa. Un'interpretazione pazzesca, difficile, Cassel è un animale, una bestia di attore di suo. Il personaggio Jacques Mesrin, realmente esistito, terrorista, rapinatore, seduttore, poliglotta, vuascone, piratesco, surclassava addirittura la natura originale di Cassel, quindi è stato un film di cui io sono fiero, ho avuto l'opportunità di seguire Cassel, che peraltro, come non succede a molti doppiatori, ma ad alcuni, a quelli probabilmente svincolati da certe catene di potere del sistema doppiaggio, talvolta mi viene sottratto, mi viene fatto fare ad altri, ma questo nel mercato penso che non avrete impattato in questo genere di cose più di una volta. Cassel mi è capitato di perderlo in alcune operazioni, però, insomma, in tutta onestà, io che ho corde, ho una congenialità di corde che ha un po' limitato nella forma ottusa delle distribuzioni, perché io devo dire che i cattivi, i perfidi, i serial killer, i pazzi, i terroristi, ho nei tagli delle mie sonorità una idoneità particolare, anche nella stravaganza, io mi cito umilmente, però faccio un'analisi professionale di quel che sono consapevole di saper rendere, anche una discreta creatività che il personaggio del cattivo favorisce, perché alcune sonorità, ha alcune crogiolamenti su certe intonazioni, sui personaggi cattivi, perfidi, possono addirittura sconfinare nel libero arbitrio. Io ho un totale rispetto dell'originale, non mi permetterei mai di fare una cosa diversa dall'originale, parlo di chiusure, di strascicamenti lievi, di gigionerie lievi, perché per me l'originale è sacro, lo sceneggiatore ci ha lavorato per anni, l'attore ci ha lavorato per mesi, quindi per me il doppiatore si deve attenere laddove riesce a capire semplicemente quello che è stato fatto in originale e possibilmente a ribadirlo, a ripetere in lingua italiana. Però il cattivo favorisce queste forme. Cassel, Mesrin è un cattivo a tutto tondo, ho avuto tantissimi consensi per quella interpretazione, devo dire che ci trovo un'aderenza fisica segaligna in certe mie corde, dicevo che talvolta mi ha penalizzato perché talvolta capita in questo settore che se fai bene un cattivo, il cattivo diventa Massimo Lodolo. Io talvolta ho degli amici che mi dicono, senti mi rovini tutti i film perché come c'è un giallo, come c'è un thriller e senta la voce, eccola, l'assassino a lui e questo è vero, a me è capitato, citerò la serie 24, dove io avevo già doppiato Kiefer Sutherland, però non ho fatto Kiefer Sutherland, dove mi è stato fatto fare il terrorista di ogni stagione, sia che esso fosse arabo, una volta era russo, una volta era americano, tant'è che io che in questa forma sono passo nel settore come rompi scatole, feci delle obiezioni, dico ma scusate, ma a questo povero pubblico che io difenda a oltranza il diritto del pubblico, alla cultura, all'onestà dell'operazione originale, nonostante alcuni troppi arbitri fatti dalle edizioni italiane, chiedo scusa per questa natura polemica, ma credo di non essere il solo aver sottolineato questi aspetti, perché metterle ogni volta sul cattivo di ogni serie, ogni anno, l'odolo, perché magari gli fa bene, sono lusingato, ma ha senso, mentre io per esempio a teatro ho fatto tanti musical, io canto bene, mi è capitato ultimamente nello schiaccianoci in 3D di Konczalowski, di aver avuto una stretta di mano da Konczalowski in persona, la proiezione romana del film, dove Turturro canta due canzoni, io sono un attore brillante, comunque a teatro ho percorso tanti ruoli comici, anche della commedia dell'arte, con l'arlecchino servitore dei due padroni, dove interpretavo Florindo, ho anche recitato per due mesi in Cina, quindi anche se lì c'era un aspetto comico, che siccome non capivano la lingua avevano un gobbo, quindi le battute al pubblico arrivavano in ritardo, quindi ridevano un 4-5 minuti dopo l'espressione della battuta. Un attore debba sapersi confrontare con tutti i generi a 360 gradi, il doppiaggio cantato poi forse è la massima espressione del doppiaggio. Io credo, chiedo scusa, se interrompo, che non ci sia poi coraggio, soprattutto nella nuova generazione di direttori, se si possono definire tali, perché adesso sono più che altro asserviti a un atteggiamento dei clienti e dei distributori molto padronale, che non c'è coraggio, intuizione, creatività, insomma, a mio parere. Secondo ruolo Andy Garcia nella trilogia di Oceans, 11, 12 e 13. I film furono doppiati tutti in colonna separata, che lei ricorda? Sì, beh, saranno 15 anni ormai che lavoriamo da soli a Leggio. Anche su questo, visto che io ho una natura polemica, mi scateno. Quando noi iniziavamo ci si accordava al collega, come a teatro, la magnificenza di una scena era perché ci si intonava uno all'altro, anche talvolta all'errore, al difetto dell'altro, ci si intonava sui cali e le ampiezze di tono, che il direttore, in quanto realmente tale, avallava. Le posso citare che il signor Renato Vizzo ci invitava severamente, rigorosamente, come lui era, a non mangiare mai prima di entrare in sala, perché siccome i doppiatori sono molto vicini, poteva l'alito, magari di un tramezzino al formaggio o di un tramezzino al tonno, mal disporre l'altro attore. Ecco, io sono cresciuto con questi insegnamenti qui. Se un attore, i due attori, uno di due aveva un monologo di una pagina e l'altro diceva, ah, sono d'accordo, ah, ho capito, e magari scivolava, gli veniva, ah, ho capito, l'altro attore rifaceva il monologo per intero. Se un attore non riusciva a dire una parola, perché è difficile, i generali ricarichino i loro orologi, magari doveva dire, che è difficile dire, fino a che non veniva pronunciata nell'esattezza dell'articolazione della lingua italiana, veniva ripetuta anche per un'ora e mezza. Oggi, al primo impatto, capita molto spesso che il direttore, a me, trovo, umiliando l'attore, diceva, vabbè, te la cambio. Con una... sull'errore si cresce, no? Sulla fatica si cresce, sul sudore si cresce. E' stato un po' tutto stravolto il concetto, non mi ricordo più l'origine della domanda, chiedo scusa, io le avevo sempre. Sì, parlavamo delle colonne separate. Quindi sì, è stato fatto in colonne separata. C'era forse anche un po' più di rispetto verso i colleghi quando si doppiava tutti insieme, ecco, a conclusione del suo discorso. Ma non solo, diventavi più bravo, cioè assimilavi dall'altro le sue peculiarità, le sue genialità. Ora stavamo da soli con le nostre piccole... Io mi separo dalle altrui attitudini, però siccome poi ho iniziato a dirigere con grande amore, con grande passione, perché il mio riferimento era Renato Itz, quindi io da sempre ho sognato poi di poter dirigere, per poter trasmettere quell'insegnamento. Renato Itz ha inventato i doppiatori, fior di doppiatori, quelli che attualmente sono le prime fasce del doppiaggio italiano. Il suo ruolo Gary Oldman in Una vita al massimo, ruolo piccolo ma importante. La caratterizzazione del personaggio è stata una sua idea o un'indicazione del direttore del doppiaggio? No, è stata senz'altro un'idea fornita dall'originale e avallata dal direttore del doppiaggio. Non posso dire che non mi è mai capitato, tranne nel fischio di Winnie Pooh, dove io facevo The Castor, quella è stata una mia invenzione un giorno e siccome cadeva, il fischio con l'esce mentre cadeva, quella fu un'invenzione. Ma di fatto se sentite l'originale di Una vita al massimo è quella, cioè a me se l'attore, come capita, rompe la sua vocalità pura, perché Gary Oldman è un fine dicitore, però ha percorso personaggi dove ha mutato la voce eccetera, io non faccio altro che basarmi sull'originale e devo dire che Una vita al massimo ho avuto dei riscontri, soprattutto nei giovani pazzeschi. Volevo dire una piccola cosa di Andy Garcia, chiedo scusa, io penso uno dei film, forse il film dove ho avuto il più grande rendimento per il mio giudizio, il successo è quello che ci si attribuisce davanti allo specchio, non propriamente quello che ti attribuiscono gli altri. Per il mio giudizio l'interpretazione dei colori dell'anima, dei modigliani, dove ho avuto la fortuna grazie a Marco Mete che è stato il direttore, che ha messo me su quel ruolo, i colori dell'anima, la parte di Modigliani, di Andy Garcia, quello che di Andy Garcia ci tengo particolarmente a citare della mia carriera, chiedo scusa per questa piccola parentesi che ho dimenticato prima. Assolutamente, anzi è la maggior dimostrazione appunto di saper aderire a diversi ruoli. Quarto ruolo al cinema che vorremmo analizzare è quello che lei ha affrontato in Anonymous, che quando ha intervistato il direttore del doppiaggio Filippo Ottoni era ancora in lavorazione, quindi non abbiamo avuto modo di parlarne. Ma per lei, com'è stato affrontare un gigante come Shakespeare e anche questa difficoltà forse nel cambiare registro vocale appunto da giovane ad anziano, una doppia prova per un doppiatore? Dunque, innanzitutto l'agio che deriva da lavorare con Filippo Ottoni è quello di sapere che c'hai l'Accademia alle spalle, di sapere che un testo è esatto nella punteggiatura, perché Filippo è uno di quegli adattatori che cura la punteggiatura che è stata un po' dimenticata, adesso è dimenticata proprio della lingua italiana, con la generazione dei telefoni, della microcomunicazione. Quindi l'agio che ne deriva è che ti puoi completamente dedicare alla recitazione, con le idee chiare anche di direzione che caratterizzano le direzioni di Filippo Ottoni, che è un accademico forse l'ultimo, non propriamente l'ultimo, ce ne sono ancora a mio parere, però in quanto a spessore culturale forse Filippo è il più accademico degli operatori del settore, quindi avere alle spalle Filippo è un agio totale. Il personaggio era difficile, perché era l'unico nel film, non l'unico forse, però c'erano fasi di età diverse, alcuni attori infatti erano doppi, cioè lo stesso ruolo era interpretato da due attori. Il mio invece era lo stesso attore, Tullis, che interpretava sia la parte da 45-50enne, che comunque all'epoca erano, sembravano già più anziani, grazie, sia la parte proprio 80enne, decrepita. Io sono fiero, sono andato al cinema a vedermelo da solo, quel film, perché poi a me piace studiare me stesso. Va spesso al cinema a rivedere le sue interpretazioni? Io lo trovo un dovere, registro anche le cose, se mi capita, che passano sui canali satellitari, o li acquisto i DVDs per studio. È raro, perché non è una pratica diffusa, insomma, tra i doppiatori nel rivedersi al cinema, forse, ma più che altro per motivi di tempo. Però ecco, è importante rivedersi anche per fare uno studio, appunto, sul... A me, vede, io questo, che può sembrare, talvolta in questo settore, può sembrare snob quanto a me sembra più naturale e umile che un professionista del settore debba fare. Cioè, studiare se stessi e studiare la propria dizione, studiare, condividere, perché il direttore va rispettato nella sua direzione, appunto. E condividere, talvolta non si capisce, a me è capitato molte volte con i direttori di farmi il fegato grosso in sala, non condividendo, ma per rispetto gerarchico. Io ho fatto l'ufficiale di cavalleria e il rispetto gerarchico ce l'ho nel sangue. Sebbene sia comunque un intollerante, un impetuoso, un sensibile, un passionale, però le categorie gerarchiche vanno rispettate. Quindi talvolta in sala si viene chiesto qualcosa e poi accorgersi al cinema che era assolutamente esatta l'indicazione del direttore. Questo è magnifico, quando avviene, ed avveniva spessissimo con i direttori della vecchia generazione, perché ne sapevano di recitazione. I direttori di oggi, poveracci, indefinibili tali, che c'hanno il monitorino, si e no dicono corta lunga che non gli compete perché c'è l'assistente in sala, allora ottimizziamo i costi e laviamo l'assistente, oppure facciamogli fare solo i piani in ufficio. Corta lunga, corta lunga, hai detto io, hai detto eh, ci si occupava di recitazione, i direttori di doppiaggio avevano un cuore, un'anima, erano registi, erano come lavorare con Billy Wilder, con i grandi registi della storia del cinema, erano persone di uno spessore, che per esempio su grandi monologhi dicevano, sì lì c'è stata una scivolata ma ti dà lustro, la lascio, adesso per una scivolata se ribella il cliente, arriva l'americano, c'è il picchio che non corrisponde al led dell'originale, cose assurde, quindi scusi che io devio con questo, dicevo no, lo studio del proprio lavoro per me è fondamentale, io penso di essere cresciuto a forza di registrarmi, di studiare, di odiarmi, di mettermi in discussione, poi a apprezzarsi, io ho smesso di fare l'attore anche in un momento, insomma il mio agente voleva querelarmi, volevo uccidermi, perché ho avuto un momento negli anni 90, facevo teatro, cinema, doppiavo Costner, Brad Pitt, Nicolas Cage, poi se volete vi racconto, io poi partivo e magari Brad Pitt, che era Thelma & Louise, non era propriamente un attore che avrei potuto continuare a vivere, ma Nicolas Cage, Kevin Costner, insomma avevano caratteristiche, avevo una discreta idoneità, poi però partivo, andavo in torneo, giravo film, o magari li prendevo un'altra società che ci piazzava il loro attore, insomma... Le dinamiche del doppiaggio. Le dinamiche del doppiaggio. So. Passando adesso al fronte televisivo, lei è la voce di Steve Buscemi in Boardwalk Empire, dovendo mantenere tale interpretazione su più episodi, ha potuto fare uno studio sul personaggio nel corso della lavorazione, rispetto al film che invece si esaurisce in un'unica volta, dovendo ritornare ogni volta sugli episodi. Beh, anche lì mi sono trovato supportato da una direzione di Sonia Scotti, che è di vecchia generazione, molto attenta e sicuramente mi ha concesso quello che non viene concesso mai, ma io non so se voi sapete che mai un doppiatore vede un film in originale prima di doppiarlo. C'è anche un presupposto storico che dicono che sia meglio che l'attore non sappia, perché così c'è un impatto immediato, un'immedesimazione immediata al momento dell'interpretazione sostenibile. Io non la penso così. Quindi lo studio che mi ha permesso di fare Sonia in sala sul personaggio è stato senz'altro significante, perché era comunque una recitazione d'epoca, una recitazione attenta. A me Steve Buscemi in questa operazione è piaciuto tantissimo e siccome sono stato intervistato da più parti, perché Boardwalk Empire ha avuto un grande successo, siccome lo sta replicando la Rai adesso, la stagione scorsa, ho citato, mi è venuto in mente lì, ma devo dire che mi ricorda Jimmy Stewart, io quando ero ragazzino ero pazzio per James Stewart, con questa cadenza, questa eleganza, questa non si scompone mai, pur essendo un uomo di potere, pure nelle zone perfide, con una plomb gentile, quindi di più efficace perfidia, con una ironia, una simpatia e con questo dinoccolamento, questo passo che mi ricordava un idolo dell'infanzia che era James Stewart. Per me l'ho trovata un'interpretazione dell'attore, fantastica, ho condiviso, dico umilmente, la distribuzione coraggiosa di Sonia Scotti perché Steve Buscemi io non l'avevo mai doppiato, so che tendenzialmente lo doppiavano altri perché poi Steve Buscemi ha in originale, come Marlon Brando, una sonorità gallinesca, particolarmente gallinesca, americanoide, però ecco, immaginiamoci con il criterio americano dei supervisor o presunti tali, ci stanno una dozzina di supervisor a film adesso, prima un film lo curava un direttore di doppiaggio, se Marlon Brando fosse stato doppiato come in originale, secondo il criterio attuale, insomma. E lei da bravo allievo di Rinaldi, come Rinaldi su Marlon Brando, insomma ha recuperato quella plomb su Buscemi. A mio parere va doppiato il personaggio, non è che ci deve essere questa aderenza a Red, attenzione se hai fatto un micro. Quindi operazione vincente, meravigliosa, però in uno special di Sky so che la serie continuerà all'infinito per il riscontro che ha avuto. Quando vuole. Dicevo, fra l'altro, so che ho visto uno speciale in cui dicono che investiranno all'infinito su questa serie, forse non propriamente sul personaggio di Naki Thompson che è quello sostenuto da Buscemi perché magari prima o poi morirà e daranno spazio agli altri della proibizione. Prendola a fare un altro cattivo magari. Esatto. Infine il campo dell'animazione, lei è la voce del perfido Seijin che è nel Guerriero la trilogia, dove è stato diretto per quanto riguarda direzione artistica da Giorgio Bassanelli che abbiamo intervistato e ha fatto il suo nome in una recente intervista in Rai. Cosa ricorda della lavorazione e quanto è più difficile doppiare un cartone animato se è vero che un doppiatore deve seguire gli occhi dell'attore? Allora, innanzitutto devo ringraziare Giorgio Bassanelli perché, a parte la gentilezza, la competenza perché Giorgio Bassanelli capisce e parla il giapponese. Quando ci si trova ad affrontare un cartone giapponese ci si trova di fronte a suoni indecifrabili per la decomposizione in italiano perché c'è una logica sonora completamente diversa essendo una lingua orientale completamente differenziale dall'italiano. La musicalità dell'inglese, del francese e anche del tedesco, a qualche titolo, è unica. Le musicalità orientali sono proprio con un pentagramma di origine culturale completamente diversa. Quindi le spiegazioni di Giorgio erano fondamentali più dell'ascolto in originale. Lo devo ringraziare per questo? Lo devo ringraziare perché tutta la generazione degli amici di mio figlio, dei giovani, mi riconosce un credito per quel personaggio. Ah, lì casualmente facevo il cattivo. Lì ero per un guizzo. Però è tuttora un cult per la generazione giovane, per gli appassionati di anime. Dani, lei è anche dialoghista e direttore del doppiaggio. Qual è il lavoro più rappresentativo che ritiene da per svolto in qualità di direttore e quale in qualità di dialoghista? Augurandoci che siano due titoli diversi. Allora, innanzitutto grazie per la domanda. L'esperienza della direzione è un'esperienza magnifica. Dunque, anche quella dei dialoghi. Il settore non concede più tempo per proporre i dialoghi studiati, pertanto io a un certo punto ho rifiutato di fare dialoghi. Mi pregio di avere come dialoghi Sherlock Holmes e il mistero della calza di seta, o anche Klimt, perché erano un linguaggio e una stesura di sceneggiatura veramente particolari, veramente forbite. Mi pregio di aver fatto un lavoro corrispondente all'originale. Come direzione di doppiaggio, io vorrei citare quasi tutto quello che ho fatto, perché ci sono sempre... Io ho una mentalità ossequiosa dell'originale, coraggiosa, nel senso che mi pregio di aver lanciato molti giovani attori, giovani talenti, laddove il ruolo lo permetteva. Quindi ho proposto sonorità nuove, diverse. Forse chiedi alla polvere con Colin Farrell e Selmayek per l'interpretazione di Francesca Fiorentini, perché doveva essere accentata in spagnolo, io ho avuto l'ardimento di non accettare la consulenza spagnola in sala, affidandomi completamente, suggerendo a Francesca magari di mettersi in casa per un mesetto prima una radio libera spagnola per prendere il suono, perché talvolta in Italia dice spagnolos, parlas spagnolos, allora giungileses, invece è sempre una questione di musicalità, come nel fare gli slavi, i serbi o gli orientali, è una questione di sonorità, di logica di battuta, di sincope. Quindi chiedi alla polvere è stato un bel lavoro di direzione, però siccome io la direzione la curo, quando scrivo l'adattamento sono certo che in sala si possono occupare del personaggio, quando non lo scrivo mi preparo a casa tutte le possibili variazioni di carattere lessicale e di tempo della battuta. Attualmente capita molto spesso che nemmeno vengono guardati i film, li doppiano sullo script e li adattano sullo script, quindi non c'è la ritmica, non c'è la ritmica della battuta, al 90% ormai questa anche superiority complex degli adattatori italiani fa sì che ci siano più parole che ritmo e quindi si ottiene questo suono sempre cadenzato, sempre uguale e talvolta la trascrizione pure è semplice dall'originale, la traduzione letterale è più efficace a mio parere dell'adattamento italiano laddove si capisse quel che viene espresso in originale e pertanto io culturalmente citerei ma anche LOL che è un film con Sophie Marceau considerato minore dove ho lavorato con tutti i giovani con sonorità, con uno slang contemporaneo è stato per me un grande successo perché ho reso in italiano puro ed elegante, forbito uno slang che in originale è francese è uno slang parigino sciolto, spesso si ricorre ai dialetti a me non piace perché a mio parere il doppiaggio va oltre il raccordo anulare anche un'operazione sci-tan con cassella mi pregio di avere siccome c'era una zona distretto di un dialetto che chiedo scusa in questo momento non mi sovviene è un dialetto franco-italiano valdostano ai confini intraducibile incomprensibile e io ho fatto ho avuto l'ardimento di far recitare in queste zone che comunque erano di gruppe confuse con un gramlo cioè non ho fatto dire parole ma solamente suoni che potessero sembrare gergali montanari ma non ho usato parole ho proposto agli attori di improvvisare suoni come fossero gramlo cioè non dette parole non dette suoni e questo a mio parere è stata una bella idea quindi scorrendo il suo curriculum mi sono accorto che spesso le capita di doppiare personaggi russi o provenienti dall'Europa dell'est slavi c'è un motivo lei riesce particolarmente a recuperare queste sonorità è un fattore particolare del suo curriculum mi piaceva sottolinearlo ma quali sono le qualità che apprezza nei direttori quando è in sala diretto in sala di doppiaggio quindi quando è attore allora in merito alla prima domanda tutto è nato dalla interpretazione di Gary Ullman in Air Force One dove faceva un terrorista ceceno l'efficacia evidentemente di quell'interpretazione da cui in effetti mi sono derivati parecchi consensi ha fatto sì che per un periodo ogni volta che capitava il ceceno il russo o insomma poi che nella cinematografia proposta quasi sempre il terrorista è ceceno serbo perché la cinematografia dominante e anche la storia attuale prevede che il terrorista è di quella zona d'Europa quella zona del pianeta e quindi in XXX insomma mi ricordo tante operazioni e anche tante televisive e mi sovviene però Baryshnikov in Sex and the City dove ho usato una che è un personaggio che ho avuto molto successo per gli amanti di Sex and the City anche perché Baryshnikov è di grande classe è di grande fascino e mi ricordo che con la direzione di Gino Lamonica fu data una parvenza di sonorità dell'Est che è più difficile di dare una netta cadenza straniera dialettale perché sono sempre dialetti quindi la mezza misura è già più complessa quindi comunque mi pregio di aver fatto certe interpretazioni tranne quando l'ottusità prevede l'odoro era diventato a un certo punto io poi che so dire dei no ne ho detti infiniti di no era che dopo soprattutto dopo Gary Oldman in Air Force One in quanto al merito dei direttori il merito dei direttori è quando senti che il direttore ama l'attore lo capisce lo avalla per me ci sono nella storia del doppiaggio i doppiatori più penalizzati e più ghettizzati vorrei citare Romano Malaspina che so che ha citato me e non siamo amici e non siamo d'accordo Romano Malaspina per me la magnificenza è la voce assoluta è l'eleganza eccetera vorrei citare Loris Loddy un magnifico doppiatore esemplare una voce suadente che poteva essere la continuità di Turci di Anthony Perkins di Psyco perché è leggero elegante e bizzarro pazzo meraviglioso vorrei citare Gabriella Borri sparita a mio parere almeno no mi auguro di no per lei che era Nicole Kidman nel film di Kubrick con Tom Cruise questo per chi non esattamente questo per citare qui siamo al solito discorso che vale un po' anche per me qui se non hai fatto i filmoni che stanno sulla bocca di tutti sembra che non hai doppiato nel nostro settore a parlare di doppiaggio sono sempre i soliti tre che magari derivano da un blocco familiare come per esempio le sorelle Izzo o che magari hanno un riscontro televisivo come Luca Ward o Francesco Pannofino come in passato si è parlato di Ferruccio Amendola che esprimo una modesta opinione a mio parere era gergale ed era a mio parere modestissimo parere l'ombra degli altri doppiatori di quell'epoca come per esempio Peppino Rinaldi Sergio Graziani o Pino Locchi Cesare Barbetti si è parlato di Ferruccio Amendola allora quindi mi ripeto Gabriella Borri che per me è una doppiatice strepitosa creativa magica suadente carismatica per queste caratteristiche delle volte vengono le persone giudicate sul piano personale ma un attore in quanto tale ha un'anima particolare ha sentimenti particolari ha fragilità particolare ora che è il settore in mano agli impiegati ai parvenu tutto questo non viene più nemmeno valutato a favore del rendimento artistico e del godimento del pubblico italiano a cui non sfugge niente io ho un figlio giovane che con i propri amici mi fa polemiche continue ma perché l'hanno adattato ma perché hanno detto il contrario ma perché hanno messo questa voce ma ci sta bene quello perché hanno messo quell'altro questi sono i misteri del meccanismo doppiaggio non mi ricordo qual era la domanda iniziale assolutamente quali sono le qualità che apprezza nei doppiatori quando è lei a dirigere in sala di doppiaggio ah ecco il rigore per me non è concepibile che non si abbia una preparazione tecnica come richiesto cioè la dizione la cura dei tempi la gestione dei fiati quindi il rigore professionale lo studio dell'anello io che sono severo se un doppiatore si permette come capita in alcune sale di parlare sull'anello al primo giro originale con la convinzione tanto c'ho le quattro l'archetto cartesiano della battuta l'ho vista sul copione so come dirla quando ogni attore e questo vale soprattutto per me ti insegna ti dà spunti ti dà possibilità per esempio di affrontare diversamente dalla retorica del doppiaggio una battuta quindi è un insegnamento è uno stage di recitazione soprattutto con i doppi grandi attori ma nei film nei film esteri a differenza di quelli italiani i secondi piani sono curati ancora meglio dei primi piani quindi anche nel doppiare il personaggio minore il piccolo ruolo come si dice nel settore o addirittura il brusio c'è da imparare quindi su questo presupposto di professionalità sacra incontrovertibile e che viene ormai trascurata nel 90% delle lavorazioni è l'amore quello che si individua il primo elemento la prima peculiarità dell'attore del doppiatore è la passione l'amore a questo proposito vorrei aprire la quattrocentesima polemica a un certo punto il doppiaggio è stato pagato in righe per forse a buon diritto a qualche titolo a mio parere però ha creato un ha mistificato un concetto se ci fa caso lei che così gentilmente voi che così gentilmente date lustro con la vostra speranza culturale che il nostro settore ancora cammini su binari culturali se lei parla con un giovane i giovani adesso parlano in righe io li sento quando parlano nei salottini ma ieri ho fatto quattro righe con l'odolo ne ho fatte diciotto con mete eccetera questo per me è l'avvilimento totale della passione per il mestiere che invece ti dà il privilegio e la fortuna di interpretare dei personaggi quando noi giovani attori cominciavamo ci dicevamo nei salottini però ci stavamo molto poco stavamo in sala a rubare a rubare i concetti dei grandi attori e dei direttori a sentire non stavamo mai mai nei salottini come adesso ci sono gli attori da salottino a dire oggi ho fatto un ufficiale oggi ho fatto un pazzo oggi ho fatto un medico insomma si parlava del personaggio ora parlano delle righe parlano di soldi i soldi sono una derivazione del valore artistico non si può affrontare un mestiere come questo pensando ai soldi a parte non ti arriveranno mai a parte che tutto si è livellato non ci sono più sul pianeta i soldi sebbene si possa ritenere chissà cosa ma i soldi come un bravo sportivo non si può fare lo sport mirando al fatto che i brahimo i ciommessi guadagnano decine di miliardi l'anno ma si deve avere la passione calcistica poi certamente per potere contrattuale può derivarne anche una fortuna economica ma quello fa parte di un secondo piano di una carriera artistica ci si può occupare di commercio si può giocare vendere l'oro si può fare gli spacciatori internazionali se si vuole mirare i soldi si può fare i criminali le rapine che ne so il politico questa è una carriera artistica ci deve essere un presupposto artistico perché il pubblico dai sei anni ai novanta lo coglie coglie l'anima del doppiatore non è scemo il pubblico tante parole ma se lei non avesse fatto l'attore con questo mestiere passionale che purtroppo oggi un po' sta scomparendo quasi diventando impiegatizio come leibbe a definire Sergio Graziani in una nostra intervista quale mestiere le sarebbe piaciuto intraprendere? forse mi sarebbe piaciuto cantare che avresti potuto farlo mi sarebbe piaciuto studiare canto io sono un istintivo sono uno che ha fatto tutto di puristinto ancora la voce protagonista più che altro lo straziamento che può fornire il canto mi sarebbe piaciuto comunque fare giornalista però poi sa che c'è vedendo quel che è diventato anche il mestiere del giornalista cioè vedendo i tempi mi sarebbe piaciuto scrivere comunque scrivo forse adesso comunque diciamo che l'espressività io ho fatto quello che ho desiderato è difficile dire che avrei potuto fare un'altra cosa perché l'avrei fatta così come ho desiderato fare l'ufficiale di cavalleria con tutto che la mia famiglia mi propose se non lo vuoi fare il militare c'è facoltà di non farlo cioè voglio dire io nella vita sono sempre stato un uomo libero anche nella mia professione questo forse non interessa però sentendomi libero e avendo la coscienza di dovermi preparare per intraprendere qualsiasi attività e questo risulta facile a chi l'ama l'attività che vuole intraprendere risulta facilissimo quindi prepararsi studiare migliorarsi essere critici con se stessi penso che non mi viene sincera forse mi sarebbe piaciuto fare lo sportivo per il criterio sacro dello sport dove il merito bene o male riesce a a pagare alla lunga perché lo sportivo ci possono essere inciuci può essere adombrato però è difficile raccomandare un calcio e il più bravo emerge insomma bene o male non dico magari nel calcio forse no però in tanti altri sport è il più bravo ad emergere quello che ha più resistenza o più capacità muscolare più talento mentale e tanti suoi colleghi dicevamo prima Davide Perino Romano Malaspina Giorgio Bassanelli hanno fatto hanno risposto senza esitazioni facendo il suo nome quale doppiatore che stimano di più per la sua bravura e nella sua carriera abbiamo visto che le è capitato di doppiare tanti attori stranieri ma le è mai capitato di doppiare attori italiani? no no per una sua scelta o per un... dunque io essendo un puro trovo che ci si debba arrivare cioè innanzitutto gli attori presunti tali italiani il buttato americano è la risultante di uno studio e di una timbrica che non risulta inascoltabile o impercepibile è stato mistificato questo concetto dagli attori italiani o presunti tali delle fiction ma anche del cinema che sono incomprensibili i bofonchiatori non hanno facoltà espressiva non hanno articolazione quindi il doppiatore che spesso è stato trattato ma tu sei doppiatore sei fine dicitore non c'entri niente con l'attore io farei comunque le gare su piazza invito qualsiasi attore presunto tale a fare una sfida con un doppiatore su piazza giudica il popolo sullo stesso ruolo vediamo se passa il buttato bofonchiato sciamannato dialettale romanesco dialettale che poi il romanesco impera io quando ci fu quella polemica della Lega nonostante io sia su posizioni morbide esistenziali apolitiche quella affermazione della Lega sul dialetto romano che sta veramente massacrando la cultura la dottrina italiana io sono perfettamente d'accordo quindi io mi sono sempre rifiutato perché o scritturi colui che ha facoltà professionali non lavorerebbe nessun attore con questa micro preparazione in Francia in Inghilterra in America in America per fare l'attore o in Inghilterra e nel mondo per fare l'attore devi superare degli esami probanti in Italia vengono presi i visi le convenienze gli inciuci eccetera e pertanto poi c'è un disastro e lo dice il pubblico non lo dico io di rendimento quindi mi sono sempre rifiutato tranne in tre casi che erano amici che mi hanno chiesto la cortesia personale uno era Olivia Robèa per i Promessi Sposi uno era Maurizio Fardo per Indio mi pare si chiamasse il film perché lui stava girando in Thailand in un altro film e mi ha supplicato di e io ho avuto fortuna perché il no lui stava girando Indio comunque il direttore del doppiaggio ho avuto una grande fortuna del film dove Maurizio Fardo avrebbe dovuto doppiare se stesso era Dino Risi Dino Risi come mi vide mi disse eh ma qui ho a che fare con un attore però attenzione Lodolo tu hai gli occhi mi disse questo tu hai gli occhi pensanti ricordati che in Italia un pensante scomodo un attore deve essere un burattino uno stolto nelle mani il requisito questo me lo disse anche Bolognini me lo disse Mario Monicelli un attore deve essere uno stolto un burattino che non deve capire e deve seguire tu caro Lodolo ragioni fa regia perché se con gli occhi che hai con l'intelligenza ma non che io mi senta intelligente però insomma con la curiosità che hai con le domande che ti fai in Italia rompi le scatole ti potrebbero ghettizzare e soprattutto potresti siccome hai gli occhi impetuosi potresti essere confinato a fare i ruoli guarda caso da cattivo io mi rappresento con umiltà io ho smesso di apparire di fare l'attore quando forse l'ho detto anche prima con il mio agente che riceveva ho girato una decina di film per il cinema una trentina di sceneggiati televisivi io non mi piacevo non mi piacevano i ruoli che mi venivano addosso per la mia sensibilità forse per il mio delirio io mi sono svestito dei panni dell'attore nel momento in cui lavoravo di più questa è una cosa che mi è capitata di cui non me ne faccio un vanto ma che come nel doppiaggio mi sono sempre rifiutato di far di diventare una macchina un rullo compresso come si fa a fare tre turni al giorno di doppiaggio ma come si fa a fare poi con la storia delle righe devi garantire tipo 200 180 righe ma come si fa è un paradosso mi chiedo lo fanno ma se sente che lo fanno che stanno tre turni al giorno in automatico con 150 miliardi di appressa i soldi eccetera a me piace recitare voglio fare un esempio della storia del doppiaggio italiano fui richiesto dalla produzione per doppiare Jeff Bridges nel grande Le Boschi io disse ah volentieri grazie meraviglioso io però sono all'Eliseo con Gabriele Lavia sto facendo il gioco delle parti eravamo tre attori Umberto Orsini Laura Marinoni e io nel ruolo di Guido Venanzi l'amante e finisco a mezzanotte e mezza esco da teatro e poi fra la cena e l'altra quindi non posso fare turni delle nove perché arriverei svuotato senza voce insomma stanco eh no mi disse la società che curava il doppiaggio mi disse eh no lodolo no ci servono i turni alle nove perché il direttore non so cosa mi disse forse non ha capito io che devo fare Jeff Bridges devo sostenere il ruolo non potrei garantire una professionalità decente una sonorità decente perché sto facendo teatro di finisco la notte eh no insomma io rifiutai il film bisogna portare la voce quindi è una ma lasciamo ma poi ma perché non stare a sentire l'agio di un professionista ma santo cielo con questi appunto parveniusti non lo so magari era un boicottamento magari stavo antipatico alla società se lo sono inventati sapendo proprio per questo per il petto di mitone da scatole fra l'altro l'ha doppiato Sergio Di Stefano che meraviglioso doppiatore un suono celestiale quindi non è che ci ha rimesso il film però da par mio ho sempre essendo poi divenuto il grande Reboschi un cult per il cinema mondiale sempre questo piccolo cruccio questo piccolo fastidio quasi me la son presa con me stesso ma non è giusto per me un attore se mi dice sono stanco lo manda a casa non gli dico devo eh no devo chiudere ti sostituisco ma santo cielo un attore è un attore non lavoriamo con le mani un attore si è affaticato e ne ha facoltà io non so come fanno parecchie società a fare tre quattro turni a giorno per anni tutto l'anno il cartone animato come fanno ma si sente io quando poi li dirigo li vedo delle volte molto spesso gli attori che finora mi hanno sempre detto di sentirsi trattati molto bene da me come direttore e per me comunque un attore che faccia il direttore o l'adattatore è sempre consigliabile perché conosce a tutto tondo a tutto tondo tutti i settori del doppiaggio la critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne si esprime quasi sempre in termini negativi secondo lei l'abbassamento della qualità nel doppiaggio che in gran parte si attribuisce a questi tempi frenetici che vediamo sempre di più oggi che da diversi anni attanagliano il mondo delle voci è imputabile anche a questo disinteresse della critica verso questa professione sì a mio parere sì però c'è anche da dire oddio che in realtà il merito come abbiamo detto all'inizio intervista il merito di un film è quando non ci si rende conto che è doppiato quindi probabilmente l'unica cosa che si possa dire a favore del doppiatore è che è mirabilmente scomparso nell'interpretazione quindi diventerebbe quasi una contraddizione in termini sì no è terribile ma poi l'intelligenza del settore ha sempre trattato e chiaramente hanno preso a riferimento come quando il trio faceva la citazione dei doppiatori cani della telenovela e poi non è che si è cani è che il tempo della telenovela è quello purtroppo sì questa è una vecchia diatriba a me è capitato un episodio curioso all'anteprima di un film che si chiamava Mojo che mi pare che il regista Chris Battleworth una cosa del genere era presente in sala il film era stato diretto da Renzo Stacchi era un film di nicchia inglese un po' sullo stile dell'odio di di transporting su insomma su borghi londinesi e una giornalista a fine fine siccome c'era il regista in sala chiese senta signor mi sembra si chiami Battleworth non ne sono certo ma lei non è sconcertato dal fatto che noi abbiamo questo problema del doppiaggio lui si fece tradurre la domanda dice pensi che durante la visione stavo considerando quante idee illuminanti mi ha dato l'edizione italiana e quanto a qualche titolo fosse stata superiore alla presa diretta questo detto dal regista del film Mojo arrivo lì qualche anno fa a Roma è accaduto questo quindi sicuramente c'è un malbizio un malbezzo è sempre sui registi e i registi italiani spesso parlano male del doppiaggio ma poi lo utilizzano massicciamente nei loro film cosa pensa di questo fenomeno? scandaloso io fra l'altro 4-5 giorni fa mi ha chiamato gentilmente con attenzione nel senso che avevano il dubbio e volevano certezza che io non doppiassi gli attori italiani mi è stato chiesto di doppiare Enrico Loverso Enrico Loverso è un attore celeberrimo in Italia abbia fatto titoli estrepitosi non ho capito fra l'altro come possa accadere questo a lui però data la competenza del direttore di doppiaggio la storicità del direttore di doppiaggio evidentemente c'è stato qualche problema relativo al personaggio che gli è stato dato in originale che poi non sosteneva il doppiaggio credo fosse una forma di imperatore io proprio pochi giorni fa ho detto no confermo che non doppiattori italiani sono rimasto sbalordito e questo anche nel 2012 sì ma non è casuale non è credo casuale anche i registi italiani forse per via forse di quell'abbassamento della qualità degli interpreti che oggi stesso si vede nelle fiction e negli sceneggiari a proposito degli attori fuori volevo dirle una cosa io Tim Roth è un attore che ho doppiato ecco io per esempio in Four Rooms faccio un'interpretazione a me non mi riconoscono mai fra l'altro molto spesso tranne quando faccio il cattivo mi dicono ma non t'ho riconosciuto non avrei mai detto che ecco Four Rooms cito un film di para tarantiniano dove c'è Tarantino in scena dove c'è una sonorità assurda che ho inseguito e corrisposto e doppiavo Tim Roth lo avevo fatto in Pulp Fiction lo avevo fatto in Rosencrantz e Gildestair sono morti eccetera il settore doppiaggio si fermò ci tengo a dire questa cosa qualora venga sentita si fermò ed eravamo in sciopero insomma integralista severo mi chiamò Cesare Barbetti forse questo è il più grande cruccio della mia carriera mi disse Massimo nonostante siamo fermi c'è la leggenda del pianista dell'oceano peppuccio tornatore vuole te chiaramente fai Tim Roth però dobbiamo farlo adesso io ero nella commissione del doppiaggio ma come proboviro non come affiliato politico come rappresentante del settore e dissi Cesare però io sono in imbarazzo perché sono siamo fermi però è un'operazione italiana dicono io a questo proposito ho informazioni diverse preferirei non farlo per solidarietà con tutto il settore Cesare purtroppo se ne ebbe cioè si sentì tradito personalmente per me Cesare oltre che un grande doppiatore era un immenso direttore di doppiaggio e una immensa persona e comunque io ero un massimo lodolo qualsiasi al cospetto sempre della storia del doppiaggio e però insistetti per coerenza forse ottusa e rifiutai di fare di doppiare Tim Roth nell'agenda del pianista dell'oceano e subentrò un attore di teatro il quale aveva già fatto la stessa cosa in un precedente sciopero per il film Armageddon questa estate mi è capitato di leggere un'intervista a proposito dei giornalisti mi è venuto in mente questo che celebravano la voce di questo attore che forse ha qualche idoneità teatrale o forse ha avuto qualche poltrona teatrale che si pregia di alcuni doppiaggi che ha avuto facoltà di sostenere perché i doppiatori erano fermi ecco questa si chiama questa si chiama come come si chiama un personaggio genere come la vogliamo definire però loro c'era il ma io non sono un doppiatore io sono un attore c'era questo io questa cosa ce l'ho perché poi caso vuole che il merc di Tim Roth si parli per la leggenda del penitenzo d'oceano meno che per altre cose che io ho avuto la fortuna e poi da allora poi magari il mercato ha rivoluto comunque il solito buonismo italiano insomma che poi non riconosce il merito invece a chi veramente si appunto non lo so agli uffici stampa se uno c'è un amico giornalista e se fa scrivere ogni che è nel doppiaggio italiano infatti sono sempre gli stessi a proposito della storia dei grandi doppiatori degli accademici io mi pregio di valutando il tipo di operazione di prestare spesso la voce per voci narranti di documentari perché era per me meraviglioso sentire quando ero giovane Nando Gazzolo o Riccardo Cucciola perché non è semplice la narrazione io ho avuto delle esperienze soprattutto con la 7 dove i forum del pubblico diceva madonna grazie alla voce portante e per questo io ho chiuso dei contratti importanti con la 7 per alcune trasmissioni relative alla natura e al modo di narrarla io questo modo l'ho assimilato non dico siamo tutti unici irripetibili però la cultura della narrazione la fascinazione della narrazione mi deriva da e non li ho citati due grandi come Nando Gazzolo che erano grandissimi attori erano grandissimi anche doppiatori ma soprattutto dei grandi narratori che questa è una facoltà è una derivazione ennesima del mestiere dell'attore una lettura intelligente una lettura di cultura allora signor Lotolo noi la ringraziamo di questa opportunità e di questo suo importante contributo culturale al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it l'enciclopedia del doppiaggio un grazie immenso a voi alla vostra difesa della cultura del doppiaggio italiano perché vi sento puri e mi allineo a voi e sono lusingato della vostra intervista e a chi vi segue seguite in questo modo la verità della storia del doppiaggio e conoscerete anche attraverso questa meravigliosa iniziativa i segreti detti e non detti di un settore che comunque è il prestigio del settore spettacolo italiano a tutto tondo per rigore per professionalità insomma grazie seguiteli seguiteci amateci amateli un abbraccio grande grazie a tutti Grazie a tutti